Un corso anti-aggressione rivolto al personale femminile degli autobus ANM per spiegare le principali tecniche di difesa personale si intitola Donne al sicuro ed è il progetto promosso dall'assessorato al welfare del comune e dal comitato pari opportunità dell'azienda napoletana mobilità. L'autodifesa non in senso stretto ma anche in senso mentale e psicologico, quindi la coscienza, la consapevolezza di potersi difendere e di cambiare un po' la prospettiva, quindi essere un po' più forti e avere coscienza del fatto che ci si può difendere dalla violenza. I corsi totalmente gratuiti e della durata complessiva di 12 ore saranno tenuti durante l'orario di servizio dall'Associazione Sportiva e Internazionale International Police Training System, che si occupa della formazione delle forze di polizia e delle forze armate. L'obiettivo è informare le conducenti sui rischi di un'attività lavorativa a contatto con il pubblico, approfondendo tematiche come lo stalking ed alcuni aspetti essenziali della comunicazione verbale e non verbale. Il corso viene articolato su giornate lavorative perché in realtà consiste in un vero e proprio corso di formazione, non è un semplice corso di difesa personale, questo lo specifichiamo. Donne al sicuro è un progetto che accomuna esperti del settore delle arti marziali ma anche delle criminologhe e psicologhe che ci sono vicine, nonché le associazioni che fanno parte della rete antiviolenza del Comune di Napoli. In passato noi abbiamo già fatto diverse collaborazioni anche all'interno delle scuole e purtroppo sono anche emersi dei casi di violenza interfamiliare e con la rete antiviolenza le abbiamo risolti.